Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 migliori kit karaoke per bambini. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Singing Machinism 398BT. T-Systems Interfaccia Vitanitable Apple iPhone e Android e supporta molte applicazioni karaoke. È particolarmente indicata l'app mobile Karaoke Singing Equipment per i dispositivi iOS, disponibile su iTunes, come pure l'app karaoke Anivere per Android e la Red Karaoke per Windows mobile. I controlli Echo assicurano un suono uniforme di alta qualità e l'altoparlante incorporato si fa apprezzare per la sua potenza. Tefile Aklai Magainst Prestazioni 2 jack-microfono con controllo del volume e un jack di ingresso sound per collegare un altro lettore audio digitale. Al numero 4, abbiamo Ion Audio Karaoke. Nella sua piccola dimensione, questo gadget mobile ospita molta tecnologia moderna. Fornisce tutti i dispositivi necessari per concedersi mentre si canta in affari, un CD incorporato e un lettore grafico CD, un microfono costituito da nel pacchetto, altoparlanti audio incorporati e anche risultati audio stereo per attaccarlo ai sistemi esterni. Dispone anche di un'uscita videoclip tramite la quale è possibile collegarlo a un televisore. Sullo schermo della televisione appariranno così i testi delle canzoni. Tu vrong da subito, You can insert CDG da 16 canzoni includendo in confezione. Al terzo posto, abbiamo la Giochi preziosi canta. Con questo gioco musicale il bambino può cantare come con un karaoke. Allo schermo LCD svantaggio divertenti animazioni e il microfono staccabile. Il bambino può registrare la propria voce e riascoltarla. I tre tasti sulla destra servono a modificare la voce, effetto mostro, alieno ed eco. Inoltre i tre pulsanti sulla sinistra propongono tre canzoni e varie attività per imparare l'alfabeto. La fonetica, i numeri, le forme complesse, gli strumenti musicali e tanto altro in italiano e in inglese. Ha un'autonomia di circa 7,5 ore. Al numero 2, abbiamo il VTE 178505 KIDI. Perfetto per bambini e adolescenti fino a 14 anni, è immediatamente pronto per entrare in procedura. Basta collegare il lettore MP3 utilizzando la televisione via cavo fornita e iniziare anche a cantare insieme ai brani preferiti. Grazie alla sua tecnologia innovativa, la melodia della melodia scelta viene riprodotta senza parole, in modo da poter eseguire apertamente. Funziona con la maggior parte dei brani, ad eccezione delle registrazioni in tempo reale. Il design delle canzoni e anche numerose animazioni al computer sono mostrate sul display interattivo retroilluminato. Ci sono effetti di illuminazione che variano a seconda della forza della pista. L'enorme giro in discoteca rotante aumenta ulteriormente il pittoresco risultato. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il One Concept Karaoke. Si tratta di un sistema karaoke creato con quattro altoparlanti a banda larga da 7,6 cm che riproducono contenuti musicali provenienti da varie fonti audio, con un'eccellente potenza sonora e luminosa. Ha un'illuminazione LED multicolore che reagisce alle canzoni, supportando anche visivamente le prestazioni dei giovani. L'altoparlante multifunzionale funziona inoltre come altoparlante audio Bluetooth. Prezioso è la capacità di inviare brani esterni o brani karaoke tramite Bluetooth a karaoke intelligente. Senza utilizzare fili, il karaoke può essere interfacciato con un telefono cellulare, tablet o computer portatile. Grazie a entrambi i diversi controlli del volume sul retro del dispositivo, il grado audio del microfono è controllato separatamente dal volume generale, come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.